Nel cuore del Parco archeologico di Capocolonna, dallo scorso autunno sono in corso lavori legati al progetto denominato SPA 2.4, un progetto da 2 milioni e mezzo di euro complessivi e i lavori appaltati corrispondono a circa un milione e mezzo. Il progetto vede coinvolti, tanto nella fase iniziale che nella realizzazione, sia il Comune di Crotone sia soprattutto la soprintendenza archeologica, che ovviamente è padrona di casa, comprende 5 interventi, almeno un paio dei quali però sono contestati dalla popolazione, dalle associazioni culturali, dal Comitato Salviamo Capocolonna, da una serie di soggetti che nell'osservare come i lavori venivano eseguiti e in cosa consistevano hanno ritenuto di dover far sentire al Ministero la loro voce di dissenso. Gli interventi che sono particolarmente risultati incomprensibili alla popolazione riguardano la pavimentazione dell'area antistante della chiesa della Madonna di Capocolonna, non il solo sagrato, ma un'area piuttosto ampia, 30 per 15 metri circa, dove inopinatamente è stata scelta una pavimentazione sostenuta da un massetto di cemento con rete elettrosaldata che è andata a coprire i resti del foro della colonia romana che lo scavo preliminare alla pavimentazione stessa ha portato alla luce. L'altro intervento molto discutibile riguarda la copertura di due vani dell'edificio delle Terme Romane, che addirittura fu trovato da Paolo Orsi nei primi scavi condotti a Capocolonna nel 1910. Due di questi vani hanno pavimenti a mosaico. Per proteggerli e renderli visibili all'utenza, si è pensato ad una copertura assolutamente inadatta ad un parco archeologico. Infatti non ne conosco altri esempi nei parchi archeologici italiani e del resto d'Europa. Una copertura che sarebbe stata congrua per un centro commerciale, per un autogrill, ma sicuramente non per un parco archeologico. Per di più, sovradimensionata rispetto alle necessità, con uno strano errore nella progettazione, sia nella valutazione della zona sismica, sia nella valutazione delle caratteristiche geologiche del terreno. Tutti dati che in realtà non sono opinabili, non possono essere lasciati alle decisioni dei tecnici che eseguono i rilievi preliminari. In rapporto alle modalità con cui sono state eseguite le trivellazioni per ancorare a terra questa copertura, le associazioni culturali alle quali anch'io appartengo hanno presentato addirittura un esposto alla Procura della Repubblica, perché abbiamo riscontrato molto probabilmente la realizzazione di danni alle strutture nell'ambito dei lavori svolti proprio negli ultimi giorni dell'anno, senza una sorveglianza adeguata dal punto di vista, ripeto, archeologico. Di questo si sono accorti i tecnici, dei quali anche io faccio parte, ma diciamo che ciò che più ha colpito la popolazione e ha determinato la rivolta popolare, se possiamo chiamarla così, rispetto a questi lavori, è la gettata di cemento che riguarda la pavimentazione alla quale alludevo prima, che è stata eseguita facendo entrare nell'area dello scavo e passare attraverso il parco, abbattendo una parte della recinzione delle autobetoniere pesanti fino a 40 tonnellate, cariche di cemento, per eseguire il tutto in tre giorni, dopo che i risultati dello scavo, che come ho accennato, hanno riportato alla luce della prima volta ciò che resta del foro della colonia romana, non erano stati affatto condivisi con la popolazione. Non c'era stata nessuna occasione pubblica né opportunità per la cittadinanza di vedere questi ruderi prima che venissero cementati. È stato affermato dall'amministrazione che cementificare, in questo caso, viste le condizioni di conservazione, sono effettivamente ridotti alle sole fondazioni, era la soluzione più adatta. Ma non può passare un messaggio del genere, che all'interno di un parco archeologico, nel quadro di un parco archeologico, le strutture, addirittura simbolicamente e fisicamente più importanti di una colonia romana, possono essere conservate nella maniera migliore solo tramite il cemento. La vita delle associazioni culturali che hanno promosso o suscitato l'attenzione su Capocolonna è una vita che dura da diverso tempo sull'impegno per la difesa dei beni culturali della città. Per cui non è un'improvvisazione. Quello che si è fatto, quello che si è detto, ha una sorta di profondità delle cose, non è uno slogan, non è una rivendicazione qualsiasi, ma è una consapevolezza di un'offesa nei confronti della comunità cittadina e non soltanto. Cos'è che è importante dire? È importante dire che la sovrintendenza regionale e alcuni altri funzionari, con questo non voglio dire che sono tutti così, sono abituati ad agire in questo modo, cioè il modello Capocolonna attuale, non da ora ma da diverso tempo. Io non so se è una sorta di stanchezza dovuta all'età o alla routine, oppure si può dire una sorta di razzismo nei confronti dei crottonesi, è una domanda. Allora il punto è, il ministro che non ha risposto alle lettere inviate prima che succedesse la cementificazione e quant'altro, sono state rivolte al ministro già dal mese di settembre e nel mese di dicembre dello scorso anno. Nessuna risposta, probabilmente i funzionari non hanno passato le carte al ministro. Hanno risposto ora con un documento che noi, ma non solo noi come associazioni, ma anche tutti quelli che sanno leggere e scrivere e interpretare le parole, è un documento che era uscito già fuori prima dalla soprintendente, la dottoressa Bonomi, la dottoressa Isa, che sono quelle che hanno in concorso con alcuni elementi del comune, preparato questo piatto alla città. Qual è il punto? Il documento lo conoscevamo, ritengo, e se è azzardo un'ipotesi vi prego di perdonarmi, intanto ringrazio tutti quelli che ci saranno a questa conferenza stampa, la deputazione delle 5 Stelle calabrese, i compagni e le compagnie del Partito Democratico, la dottoressa Lanzetta e altri che sostengono questa cosa, perché forse è una divagazione, ma per la prima volta i cittadini devono difendere un bene dallo Stato dai funzionari dello Stato e quindi mi sembra una contraddizione forte questa, a me sembra. Qual è la proposta che mi sento di fare al Ministro Franceschini? Sì, perché non credo che lui abbia letto il documento che ha presentato pubblicamente rispondendo all'interrogazione del senatore Morra e anche del parlamentare Parentela, e che lui non abbia letto questo documento, intanto perché non è firmato, tutto storto, non si sa da dove è uscito questo documento, nelle istanze del Ministero, noi lo conoscevamo perché sono le ipotesi. E quindi io vorrei pregare, approfitto di questa possibilità, vorrei pregare il Ministro Franceschini di fare una cosa bella e gentile per la città di Crotone, perché è chiaro che noi non ci muoviamo dalla protesta, dalla proposta di smantellare la cementificazione, ma la proposta è quella di venire a Crotone, vedere lui stesso e l'area archeologica di cui si parla e stringere una specie di rapporto con la cittadinanza facendo vedere che in fondo lo Stato, lui rappresenta un pezzo dello Stato e non è poi così malvagio. Il Ministro Franceschini credo che ha tutti i mezzi, le possibilità, le ragioni per fare una volata verso la città di Crotone.